Dio è vita, Dio è amore, è difficile da descrivere, ma di che cosa ha bisogno la coscienza? Dio ha, se esiste, deve avere un aspetto, se esiste, allora secondo noi deve mangiare qualcosa, e così via. E che cosa gli piace per colazione? Beh, è il lavoro della coscienza. Perché? Perché la coscienza non percepisce un'altra forma di esistenza, un'altra forma di vita, un'altra forma di vita reale. Chi è Dio? È una specie di energia o è… Ancora una volta, la gente sta cercando Dio. Beh, scusate la parola infilare, ma non si può dire in altro modo. Infilare Dio è in qualcosa di materiale. Ma se non è possibile che entri in qualcosa di materiale, allora almeno nell'energia. Anche l'energia è in materia, ragazzi. Come si può infilare Dio in qualcosa di materiale? Sì, ho anche trovato questa domanda sul fatto che l'induismo dice che Dio è ovunque, che è in tutte le sue creazioni materiali. E per esempio l'Islam dice che Dio non può essere come le sue creature, che lui solo… Sì, per esempio un pittore dipinge un quadro, questa è una sua creazione, ma il quadro è lui. È una domanda molto semplice, il dipinto è il pittore. Lui si trova fuori. Naturalmente, è fuori dal quadro. Sì, e qui c'è una domanda interessante anche sulla scienza, perché gli scienziati, anche loro, non possono né dimostrare da un lato, né affermare che Dio esista o che Dio non esista. Perché così, alcuni dicono che non c'è posto per lui nell'universo, mentre altri dicono che solo grazie a Dio tutta questa scienza esiste. E la scienza può solo indicare la sua esistenza. In realtà, non c'è modo di conoscerlo o vederlo con la scienza. Non molto tempo fa, un premio Nobel ha detto che per Dio non c'è posto nell'universo. Sono d'accordo con Lui al 100%. Questo non è il suo mondo. Ma questo dimostra che Dio non esiste. Nell'universo, aspetta, ogni uomo è dotato di un'anima. E l'anima è una parte del mondo di Dio, una parte del mondo spirituale. Diciamo che l'anima è in ogni persona, ma è anche in questo mondo. Essa non ha la forma materiale a cui siamo abituati, che siamo abituati a vedere, ma c'è. Ed è questa la questione che hai sollevato un po' prima. Che ogni persona la sente, la conosce e ne è convinta. Ma con il tempo, a causa del lavoro dei neuroni a specchio o di qualcosa del genere, ascoltando le altre persone comincia a dubitare. Perché? Perché ascoltando altre persone che dicono «Se c'è un Dio, perché c'è la guerra? Se c'è un Dio onnipotente e amorevole, perché c'è così tanto male intorno a noi? La risposta è semplice. Perché questo è il mondo di colui che chiamiamo diavolo e che non è il creatore del male. Questo non è un paradosso, è la realtà. Poiché il diavolo non ha mai fatto niente di male a nessuno. Questo lo facciamo noi quando creiamo quelle condizioni per la nostra esistenza. ci risentiamo con qualcuno, invidiamo qualcuno e così via. Dio è purezza. Dio è la fonte della più pura vita. Ecco perché è il più puro. Perché in Lui non ci sono inclusioni, non ci sono invidie, non c'è avidità, non c'è egoismo e soprattutto non c'è orgoglio. Dio è una personalità? No, certamente no. Dio non può essere una personalità. Una personalità è solo una parte incompleta di qualcosa che deve diventare completo. Beh, una persona ha una personalità, ma una persona ha anche un'anima. Una persona è un angelo o più semplicemente questa creatura è immortale. No, non ancora. Un essere immortale è una persona quando si collega all'anima e allora che appare l'angelo. Ecco perché Dio non può essere una personalità. Igor Mikhailovich, Dio ha il sesso? Può avere il sesso? Sesso. Maschile o femminile? Oggi tutti hanno la chiara idea che Dio, Lui è un uomo e non può essercene un altro. Ma scusatemi, Dio è colui che dà la vita e un uomo dà la vita. È una domanda molto semplice. Chi produce prole in questo mondo? se proprio vogliamo usare l'analogia del nostro mondo. Naturalmente, una specie femminile. Beh, questo è tutto. In realtà, Dio non ha il sesso. Proprio come gli angeli e tutti gli altri. Che è proprio questo potere creativo dell'amore, così femminile. Certo. E poi di nuovo, Dio è unico e plurimo. Dio è il mondo spirituale e nel complesso tutto è Dio. Ecco perché Dio è sconfinato. e due è il mondo. Grazie a tutti.